Vai, fai 1, 2, 3 Ok, quel sorriso da Emet è più Emet che esista e vado questa sincrona Ah, ma che mi stai guardando? Eh sì, io ti guardo Me l'ho dimenticato, guarda che c'è il cazzo di video, guarda che me l'ho dimenticato Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Questa volta insieme a Simone Pacello, awe d'owe d'una crisi d'identità Me l'hai rubata, hai fatto tu la intro per me, grazie mille suori Che sei dose? No, mi sto ambientando dei fanni di Minecraft, mi sto cadendo nel personaggio Ragazzi, avete capito che Simone Pacello non ha mai giocato a Minecraft in vita sua Anzi, a dire il vero, non ha mai giocato a niente Né Pac-Man, né Mario Bros, niente, niente Io ero il bambino più triste nel mio quartiere Lui passava tutte le giornate ad ascoltare le canzoni neomelodiche napoletane dei bambini Io nel tempo libero ascolto canzoni rionali Io mi affaccio a Bacone, lancio moneta ai cantanti nazionali E' basta Allora, oggi siamo in Minecraft in una rivalutazione di un gioco Che è stato molto ben apprezzato all'estero Che si chiama Keep Talking and Nobody Explodes Che tradotto in italiano Che vuol dire? Vuol dire Significa prendi a parlare e non curati nel mio corpo Esatto Esatto L'ho capito da Nobody, l'ho capito La nuova nozione della L'Oreal da Nobody Allora, praticamente io dovrò premere questo bottone che vedete qui a schermo E dovrò disinnescare una bomba con l'aiuto di Simone Simone dovrà aiutarmi a disinnescare una bomba perché io non sono laureato in disinnescalologia Bombo nucleare e quindi Eh, guarda cazzo, guarda cazzo, hai chiamato un napoletano per disinnescare una bomba Chissà perché, chissà perché Eh, beh, ma siamo anche vicino a Capodanno Ci guardiamo, ci guardiamo la stessa Hai preso qualche dita Abbiamo fatto scoppiare i bomba Mostra tutte e dieci Questa dopo Eh Ogni anno un in meno Ovviamente ci scherza, ragazzi Allora, vogliamo iniziare? Ma Assolutamente, io sono nato Hai dato una letta al manuale? Io ti ho passato il manuale di disinnescalamento Sì, l'ho letto, ma pure più di una volta Poi risposto alle domande a te, capito Molto bene, molto bene Allora, iniziamo la lezione Io premerò il tasto start Ti dico, ho tre minuti per disinnescare la bomba Siamo ad avvenire, tu lo sai questo Che hai chiamato il peggiore disinnescatore di bombe al mondo Va bene, va bene, ma no Se ci credi, l'importante è crederci, sì Sì, sì L'importante è crederci Poi se ti scoppi una dita non è colpa mia Una dita, una dita Ci sono Tre, due, uno È iniziato il countdown È una stanza buia In cui c'è una bomba E devi dirmi che cavo tagliare Nero, verde, rosso, giallo, blu È rosso In chat Ti dico cosa vedo Vedo Una freccetta e tre astresche Ok, ok Poi tre freccette Altre tre freccette È una freccetta singola Certo Il codice moz Devi tradurlo Il codice moz È semplice allora F F Veloce Abbiamo 20 secondi U U U U U C Ma K Ma No dai Allora No, serio Ho due minuti e tre secondi Devi tradurre No, no, no Allora Traducano l'inglese Using the morse code below The correct word will match to the why you must cut Qualcuno chiami Greta Mickey Mi crede, non lo so Allora Ciao Greta So che non ci stai seguendo Allora Oddio Ma se sapevo dovevo leggerlo prima sto manuale Dai, aiutami Allora Aspetta Aprevo anche io il manuale Allora Vai, vai Una freccetta verso l'alto e tre asterischi B È la B La vedi che c'è la B Ok Sì, sì, sì Ok, cammino, cammino Certo, cammino, cammino Certo, hai tre freccette Ci sono due con tre freccette Tre freccette O, O, O Ok, quindi è B, W B, W V, O, O Vai E poi c'è una freccetta singola B Ti 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 vale E ora che cazzo vuol dire ti vale L'Italia L'Italia Ok, poi dimmi un numero, sì Ah Sei Sei Sono scrodo Non lasciamaci demordere questa cosa È capitato È capitato Può capitare Può capitare Va bene Va bene Riniziamo Aspetta Sono pronto Il range di numeri quali da 1 a? Da 1 a 6 È che culo Ok Ok, ora vedo C'è ancora la B È ancora but È ancora but Vai, vai, vai Il 6 non può essere però Ah, ho capito È il 3 È il 3 Ce l'ha scritto È il 3 Ok, ok, ok Ho tagliato il cavo con successo Vai, vai Ora ho delle freccette Vai, bravo Ora ho delle frecce nell'inventario Hai delle frecce? Beh Sì, aspetta Ti mando la foto su Whatsapp Ti giuro Cioè, delle frezzette Devo fare qualcosa Non mi manda le foto dei piedi come l'altra volta Dai, 3G, muoviti Segui il manuale Siete cosa devo fare Sto scaricando l'immagine Aspetta un secondo Allora, ok A Napoli non ce l'avete la condizione Eh, non è ancora arrivato Sto in Molise Si fermata lì Allora Cazzo, cazzo, cazzo Due minuti Dov'è? A me in chat è scritto Maze 3 Quindi labirinto numero 3 Cosa devo fare? Eh, domande a me Devo seguire le frecce Sinistra, giusto? Non lo so Tu dovresti avere un labirinto Il labirinto numero 3 E mi devi guidare tu Devi guidarmi Io tipo sono un uomino E tu devi portarmi dall'altro uomino Ah, allora Maze 3 C'è scritto? Si Vai sempre avanti Sempre avanti In alto In alto, in alto Vai, vai, vai Quante? Devi dirmi il numero Allora 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Sono esploso Fai 5, allora No, ne avevo fatto solo uno Sono esploso Ah, perché noi siamo il blu Giusto nella mappa Chiedo scusa Ho letto finish Scusate Va bene Non lo so Va bene Uno avanti Uno avanti No, no, scusa, scusa Uno a destra No, aspetta 3, 2, 1 Devo iniziare Ok Ma è ancora butta È per forza il 3 Micà, che culo Vai, vai Ora Sempre in mezzo 3 Sempre in mezzo 3 Dove devo andare? Uno a destra Uno a destra Ok, fatto 3 sotto 3 sotto 1, 2, 3 Fatto Fatne altri 2 sotto Uno Due Fatto Mo vai Due a destra Uno Due Ci sono Ci sono Concentrazione Poi 3 sopra 3 sopra Uno 1, 2, 3 Ci sono Eh, mi ho perso il conto 3 a sinistra Proviamo Uno No No Sì Andai, andai No Lo so Porco Dobbiamo riuscirci Simone Ma da capo Dobbiamo ricominciare Certo, ogni volta Allora Porca puttana Allora vedo Cinque sotto Uno Speriamo Come speriamo? I problemi con la matematica Di Simone 5 sotto Ci sono Due a destra Due, ok Tre a sinistra Che non erano cinque Sono esploso Come sei esploso? Non hai bannato Sto gioco Tre a sinistra Ma che cazzo sta a dire? Metti il platto fiorito Facciamo i gameplay su quello Ripartiamo Veloce Non voglio più esplodere Allora Se non è tre No aspetta No aspetta È cambiata la scritta C'è Allora C'è una C'è una B C'è una O Poi ci sono due asterischi Cos'è due asterischi? Torna su Ah è Boyle Boyle Due 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 Ok Ok Ora è il mezzo uno Cazzo Quello più difficile Stante Qui siamo qui noi Uno a sinistra Fatto Tre a destra No Ma no Non è Sibile No mi sa che ho sbagliato Freccia Suri Non lo so Cioè io ho clicchato a destra Poi è cambiata la sola E è diventata in alto Ma vaffancon Non lo so Vai a farlo in culo Tre a destra Suri Conta bene A destra Uno Tre a destra Uno Due Tre Ok fatto Tre sopra Tre Suri Tre Due Due Tre Sì la matematica Non è un'opinione Lo so Due a sinistra Uno Due Ok Uno sopra Suri Uno 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 Ho toccato solo una volta Poi Mi sono un attimo perso Dovrebbe essere Due a sinistra Speriamo Uno Due Ok Vai vai Due sopra Suri Questo sono sicuro Come la morte Due Ok Vai Due a sinistra Fai Attenzione Due a sinistra Due Ci sono Ma queste sono gli ultimi tre movimenti Quindi Dimmi Dimmi Mantieni la calma Quanto tempo ci abbiamo? Quanto tempo ci abbiamo? Un minuto e quaranta Oh cazzo Uno sotto Uno sotto Fatto Uno a sinistra Uno a sinistra Uno sotto Suri Dell'ultimo Fatto Fatto Ok Ho dei colori Sperto Ho dei colori Ho dei colori Ho Perché ho dei colori? No No Ho verde Rosso Giallo E blu Cosa devo fare? Ok Allora In your chart Start button Will appear Click the Death and five colors Ah Ok 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 Devo cliccare start Era semplice Solo tipo a quel cazzo L'inglese No Ok Block paste Blu red Blu red green Blu Sono morto Red Ho cliccato rosso Mi sa Hashtag Suri Sei un daltonico Non l'ho fatta apposta Che pessimo conduttiere che sei Che pessimo conduttiere Conduttiere È il gergo tecnico Un daltonico Alessico antico Un borbonico Per definirti Nella società Va bene Va bene Non mi compare più la freccia È scomparsa la freccia Ok ok È ricomparsa È ricomparsa Fatto Questa è una skill Andata un al ligno Ok Sono morto Ma non è possibile È perché non mi ha cliccato la freccia Skill andata un al ligno Uno a destra E due sopra Tre sopra Questo sono sicuro Tre sopra Uno Tre Non ci siamo mai divati fino a sto punto Muoco contro bene Questo è lungo Uno Due Tre Quattro Cinque Spariamo Sette a destra Non ne so Sette a destra Ok Uno Sette Sei sotto Sei sotto E abbiamo vinto Sei sotto Uno Sei Vai 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 Ok Premo start Premo start Vai dal tonico vai Verde rosso rosso blu verde Verde rosso rosso blu verde Verde Non fa più niente Ti siete scatta Sì 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 Andiamo Andiamo a bombardare il mondo adesso Ti siete schermo qualsiasi cosa ci capita tra le mani Sì Cosa stai dicendo No è che mi sono fatto vedere l'emozione Scusate Ma ci sta ci sta ci sta Bello bello Signore e signori Ma non mi restino E' tutto meglio di Gianni Malanti qui dietro Il nostro Santino Prorettore Andiamo Grande Gianni Io c'ho Sant'Antoni invece Vabbè Da Pado Comunque Io vi ringrazio tantissimo provvisore Questo era Defusing the Bomb Insieme a Simone Pacello Su Minecraft Prima volta di Simone Pacello su Minecraft E Sì Stato rispetto incredibile Non ha perso nessun dito Signore e signori Guardate Intatto Noi vedete come prima In questo video Grazie a tutti Ci vediamo prossimamente Seguite Se volete piacere su YouTube Lo trovate qua Da sotto in descrizione E semplicemente Ciao Ciao Ciao